Per la terza serie, alla 1 Benedetta Zena, alla 2 Matilde Chiari, alla 3 Giada Pigro, alla 4 Alina Rampazzo, alla 5 Lara Bisarro, alla 6 Sofia Centenaro, alla 7 Elisa Sfera, alla 8 Matilde Dalmas. Intanto Giorgia Zanoccoli si è giudicata alla serie appena conclusa in 1.32.01, comanda la classifica provvisoria, record della manifestazione in questa gara per le esordienti appunto, Emma Orion 1.19.62 edizione 2015. Grazie a tutti. Grazie a tutti.